Ciao, sono Alessio Iannone, fondatore di BinarioPrint e ti do il benvenuto in questo video in cui vorrei farti vedere tre esempi pratici fondamentali per imparare Autodesk Fusion 360. Un attimo però, prima di cominciare, ti consiglio di scaricare gratuitamente il mio manuale su Autodesk Fusion 360, un manuale che decine di migliaia di persone ormai hanno scaricato per imparare a utilizzare Fusion in semplici passi. Benissimo, allora cominciamo. Il primo che andiamo a disegnare è questo pennarello evidenziatore che avevo qui sulla mia scrivania. Quindi tutti gli oggetti che andiamo a disegnare oggi sono più o meno oggettini che avevo qui all'interno del mio studio. Quindi, perché partiamo da questo? Perché utilizza il comando estrusione, che è il primo comando fondamentale per andare a disegnare qualcosa all'interno di Fusion. Quindi fammi un attimo spiegare la logica che ci sta dietro alla scelta di questo comando, perché nella modellazione è una questione ovviamente di saper utilizzare il software, ma è anche una questione di scelte logiche per andare a utilizzare il comando più corretto. Il comando estrusione utilizza uno schizzo, che è l'area dell'oggetto che vogliamo andare a utilizzare, o una parte di esso. In questo caso andremo a disegnare un'ellisse. E poi utilizza appunto il comando estrusione, che ci serve per andare a spingere del materiale attraverso questo schizzo, attraverso quest'area, e andare a creare effettivamente il volume, in questo caso della lunghezza che ci serve per il nostro pennarello. Bene, partiamo da zero, foglio bianco. La prima cosa da andare a fare è andare a creare a questo punto uno schizzo. Quindi utilizziamo il comando create sketch, crea schizzo, qui nell'ambiente solido. Andiamo ad appoggiarlo su un piano di riferimento. Qui abbiamo i nostri piani, che sono l'equivalente di posizioni che potremmo avere nello spazio. Quindi se è un piano superiore, io in genere lo spiego come un foglio appoggiato su un tavolo. Quindi se vogliamo partire guardando l'oggetto come se lo stessimo guardando dall'alto di un tavolo, possiamo andare a utilizzare il piano top, che significa il piano superiore. Andiamo a disegnare qui sopra il nostro schizzo, una volta cliccato ci apre la palette degli sketch, quindi tutta una serie di comandi di schizzo e stiamo volendo andando a disegnare uno schizzo. Quindi dobbiamo crearlo, utilizziamo il comando crea schizzo e andiamo qui a selezionare la forma che più ci interessa. In questo caso io avevo utilizzato un'ellisse. Come funziona l'ellisse? Mi vado ad agganciare sul centro del mio foglio, in questo caso vedete che c'è questo pallino e l'origine. Clicco col tasto sinistro del mouse, mi allargo a sinistra, clicco di nuovo, mi allargo verso l'alto e vado a creare la mia ellisse. Qui ci possono dare già delle dimensioni, ma noi vogliamo solo fare un disegno grafico senza andare a mettere le dimensioni in questo caso. Quindi ci accontentiamo, se no comunque se volete saperlo, il comando per dare la dimensione è create sketch dimension, ovvero D della tastiera, vado a prendere una qualsiasi entità che ho disegnato e posso andare a dimensionarla. Comunque per queste cose vi consiglio appunto di scaricare il mio manuale su Autodesk Fusion 360, gratuito, dove vi spiego tutti i comandi base passo passo in altri video. Qui cerchiamo di andare un po' spediti, se no diventa un video veramente lunghissimo. Bene, abbiamo disegnato il nostro schizzo dal quale partirà la nostra estrusione, a questo punto facciamo finish sketch, quindi finiamo lo schizzo e andiamo all'interno di create nell'ambiente solido, a questo punto prendiamo il comando estrusione. Il comando estrusione se trova una sola area disponibile all'interno dello schermo ce l'auto selezionerà, infatti me l'ha già selezionata nei profili. Qualora non la selezionasse bisogna andare all'interno e cliccare col tasto sinistro. A questo punto viene fuori una freccina che ci permette di andare a questo punto a dare una distanza della nostra estrusione, quindi in questo caso una lunghezza del nostro pennarello. Qui andiamo a allungarci il più possibile diciamo rispetto a quelle che sono le proporzioni del nostro pennarello. Allora vi dico già un trucchettino interessante, se voi ci fate caso il pennarello, se riesco a inquadrarlo, non è proprio dritto, cioè non va su pari ma va su come se fosse leggermente inclinato. Questa è una cosa che si può fare già dalla creazione dell'estrusione utilizzando questo cursore che va a dare un taper angle, quindi un angolo di sformo alla nostra estrusione. Se io tengo premuto questo tasto sinistro e mi allargo verso sinistra o destra, sto rispettivamente andando a stringere o allargare la mia estrusione. E qui come vedi si evidenziano i gradi, in questo caso tre gradi sono troppi, andiamo a mettere un grado per dare giusto un leggero sformo che è quello che ci interessa. Benissimo, a questo punto andiamo a disegnare i nostri dettagli, andiamo a disegnare questa zona dove c'è l'aggancio per il tappino, il tappino con la relativa clip. Allora ragazzi e ragazze, la mia strategia qui per andare a disegnare questi oggetti non è andare a creare dei nuovi schizzi, delle nuove estrusioni, ma andare a utilizzare quello che già abbiamo e andarlo a modificare. Questo è un approccio che io vi consiglio di seguire perché renderà il modello più semplice, con meno funzioni e tendenzialmente anche più modificabile nel tempo. Invece andando a creare nuove estrusioni per ogni tipo di oggetto, cosa che magari vi consiglierà qualcun altro se andate a guardare altri video, perché è l'approccio più immediato che uno potrebbe avere, però vi dico in 10-15 anni di esperienza di modellazione che insomma utilizzare invece delle funzioni di modifica è molto meglio, col seno di poi ve ne accorgerete. Quindi torniamo sul nostro modello e a questo punto dobbiamo andare a fare cosa? Andare a, scusate, cercare di creare questa cava e cercare di creare questa suddivisione di questo tappino. Quindi come possiamo andare a fare? Abbiamo già il nostro modello, io andrei semplicemente a tagliare quello che già abbiamo in varie parti. Quindi creiamo un comando schizzo, andiamo a crearlo su un piano frontale, quindi guardando il nostro modello a questo punto da qui, dal davanti, come se lo stessimo guardando da così, andiamo a creare dei comandi di linea in determinate zone che ci aiuteranno a tagliare il nostro oggetto. Intanto lo facciamo, seguitemi e poi capirete dopo a cosa ci serve. Andiamo a disegnare due, che sono effettivamente le zone divisorie tra il nostro tappo, qui sopra, che sarà la zona di aggancio un pochettino più sottile e il corpo del nostro pennarello. Mi ho finito, mi servono questi due schizzi qui. Quindi chiudo, vado nei comandi di modifica e utilizzo un comando che si chiama split body, taglia corpo. Il comando split body mi chiede un corpo da andare a tagliare, ed è ovviamente il mio pennarellone tutto unito, e degli strumenti di taglio. I miei strumenti di taglio sono queste due linee. Se io le vado a selezionare, vedete che si creano dei piani di taglio rossi, se premo ok, quello che succede è che mi è andato a dividere il mio pennarellone a questo punto in tre parti. Tappo, zona di aggancio del tappo e corpo del pennarellone. Bene, a questo punto andiamo a rimpicciolire leggermente questa zona perché deve creare quell'effetto di scanalatura che ci servirà. Come possiamo andare a fare? Sempre con i comandi di modifica abbiamo un comando che si chiama press pull, qui sopra, oppure Q della tastiera, e ci permette di andare a prendere delle facce e andare a tirarle, spingerle. In questo caso, se tiriamo la freccina verso l'interno, ce l'andrà a stringere. Non ci rimane che andare a disegnare la nostra clip qua sopra. Come possiamo fare? Per esempio, potremmo andare a prendere il piano laterale, quindi guardare il nostro oggetto dal laterale e andare a creare un nuovo schizzo sul piano laterale. Attenzione che vi faccio notare questa cosa. Noi abbiamo disegnato tutto sempre con gli assi che passano nel mezzo del nostro oggetto. Questa è una comodità che vi consiglio sempre di tenere sott'occhio. Cioè non disegnate le lisse nello spazio da qualche parte. Cercate sempre di disegnare tutto a partire dall'origine, in maniera che i piani di origine, quindi i piani naturali che abbiamo utilizzato finora, siano sempre simmetrici rispetto ai volumi del vostro progetto. In questa maniera, se ora io utilizzo il comando schizzo sul piano sinistro, il piano sinistro passerà nella metà esatta del mio corpo. Quindi se vado a disegnare qualcosa lì, so che è esattamente nella metà del mio corpo. Questa è una comodità perché ho un riferimento certo e quindi sono tranquillo di fare le cose, se devono essere simmetriche, in maniera perfettamente simmetrica. Quindi vado a creare uno schizzo a questo punto, su questo piano e quello che mi serve andare a fare è sempre un comando di schizzo che servirà per un'estrusione che andrà a estrudere la nostra clip. Ad esempio potrei utilizzare un comando rettangolo che trovo qui sopra e andare a creare la prima parte della mia clip. Poi sempre con il comando attivato andare per esempio a creare l'altra parte della mia clip che è quella lunga che si aggancia. Fate attenzione che quello che ci interessa in questo caso è fare in modo che il primo rettangolo, quello dell'unione tra il corpo principale del tappo e la clip, vado a sommergersi, diciamo, a entrare all'interno del mio tappo perché voglio che una volta estruso si unisca alla perfezione con la geometria curvilinea del mio tappo. Questo adesso lo capirete perché quando faccio finish sketch vedete che intanto il mio schizzo è nella metà e quindi sono molto comodo. Vado a utilizzare il comando estrusione, prendo le aree relative dei miei schizzi che sono andato a disegnare, a questo punto con la freccina vado a tirare verso sinistra. Automaticamente Fusion, e questa è una cosa che vi spiego all'interno dei video del manuale, ma ve l'accendo anche adesso, se incontra qualcosa tenderà a tagliarla, se incontra qualcosa. Quindi noi nelle operazioni dobbiamo andargli a suggerire cosa effettivamente vogliamo fare. In questo caso vogliamo andare a creare un nuovo corpo, ma non solo vogliamo andare a creare un nuovo corpo che è la nostra clip, vogliamo anche unirla al corpo originale del tappo, perché la nostra clip è unita con il nostro tappo, quindi utilizziamo un'operazione di join, che vuol dire unione. Non solo questo, però perché vedete, siamo andati a disegnare solamente metà, in questo caso se noi nella direzione andiamo a mettere simmetrico, stiamo andando a disegnarlo da entrambe le parti, che è esattamente quello che vogliamo fare. Per questo motivo andare a tenere i piani di origine nella metà è comodo, perché facendo un'estrusione, se io gli dico direzione simmetrica, so perfettamente che sto disegnando un qualcosa di simmetrico. Ultima cosa che andiamo a fare su questa clip qui è andare a dare dei raccordini, quindi smussare, cioè raccordare questi spigoli vivi. Il comando in questione si trova all'interno di modifica, ed è il comando fillet. Fillet vuol dire appunto raccordo. Se io vado a selezionare i miei spigoli vivi, che voglio andare a raccordare, potrebbero essere anche questi qua sopra, e poi con la freccina spingo verso dentro, sto andando a raccordare. Vedete come è intuitivo Fusion, a questo punto di vista, si utilizzano spesso le freccine, non c'è anche bisogno di andare a inserire dei valori numerici, se non vogliamo fare cose precise, ma solamente andare a creare il nostro oggetto, dal punto di vista grafico. Ultima cosa che andiamo a fare, a questo punto, è dare dei colori ai nostri oggetti. Andiamo all'interno di modifica, c'è un comando che si chiama apparenza, A della tastiera, mi permette di andare a dare degli aspetti al mio progetto. In questo caso potremmo, qui sotto, trovare tutta una serie di materiali, o verniciature, per esempio paint, vuol dire verniciatura, e andare a selezionarle, semplicemente trascinandole sull'oggetto, che vogliamo colorare. In questo caso, potrebbe essere una cosa del genere, oppure facendolo come avevo già fatto prima, i colori erano questi qui. E il risultato è il nostro pennarello, praticamente già un pochettino più carino, realistico, con dei colori. Bene, passiamo al prossimo progettino. Se questo video ti sta piacendo, metti un like, scrivi un commento dicendomi cosa ne pensi, e condividilo sui social. Benissimo, procediamo con i nostri progetti, e ora andiamo a fare una tazzina, e andiamo a vedere quale comando principale da utilizzare. Il comando principale si chiama rivoluzione, e ci permette di andare a utilizzare uno schizzo, e rotearlo intorno a un asse, per andare a creare delle forme, che sono sviluppate appunto in maniera circolare, attorno a un asse. Quindi tutto quello che è tondo, tutto quello che è circolare, può essere disegnato con il comando revolve. Per disegnare la nostra tazzina, come prima cosa dobbiamo creare uno schizzo, abbiamo detto. Quindi utilizziamo il comando create sketch, e andiamo anche in questo caso a disegnare uno schizzo su un piano. In questo caso vi consiglio il frontale, perché dovendo roteare uno schizzo intorno a un asse, conviene guardare l'oggetto dal davanti. Quindi selezioniamo piano frontale. Come prima cosa vi consiglio di disegnare l'asse di simmetria, quindi comando linea. Partiamo sempre dall'origine, ragazzi, quindi proviamo col tasto sinistro, e ci alziamo per andare a disegnare la nostra asse. In questo caso, dando una dimensione, già andiamo a delineare quella che potrebbe essere l'altezza della nostra tazzina, ma comunque non ci interessa, in questo caso abbiamo detto, premo ESC, invio, oppure questa V, e chiudo la mia asse. Continuo con il mio schizzo, però, perché la mia linea mi va benissimo. Facciamo la parte sotto che si appoggia sul tavolo, diciamo. Poi teniamo sempre il comando linea, la parte sopra, che è la parte dove poi si si appoggiano le labbra, diciamo, e poi potrei scendere un pochettino dritto, oppure già fare il mio arco. Dipende un po' da come vogliamo farla. Facciamo direttamente il nostro arco. Prendo il comando create, sempre schizzo, e vado a cercare un comando che si chiama arco. Lo trovo, se l'avete salvato qua, e se volete salvare le cose, qui ci sono i tre puntini, e vi chiede se volete metterlo nella barra degli strumenti. Quindi potete salvarvi i comandi che utilizzate più frequentemente. Se no, trovate tutto chiaramente qua dentro. Quindi, arco ha tre punti. Primo punto, clicco. Secondo punto, clicco. Terzo punto è l'arco. Benissimo, lo schizzo per la nostra rivoluzione è completo. Possiamo premere su finish sketch. A questo punto ci conviene andare a utilizzare il comando crea revolve, rivoluzione. Come vi ho detto, ci chiede un profilo e un asse attorno al quale vogliamo roteare questo profilo. Mentre che lo roteiamo, ci andrà a creare il nostro volume. Quindi in questo caso, 360 gradi è la rotazione che ci interessa, perché vogliamo andare a chiudere su se stesso il nostro schizzo, quindi la nostra tazzina, e creare un nuovo corpo. Benissimo, premiamo ok. Allora, però la tazzina dentro è vuota, sennò non possiamo mettere il nostro caffè dentro. Quindi vi spiego un altro comando di modifica, che è già un pochettino più avanzato, ma vi sarà veramente molto utile. Il comando in questione si chiama shell, ovvero svuotamento. Il comando di svuotamento, nel nostro caso, ci servirà per andare a svuotare la faccia superiore, fino ad arrivare a in fondo, mantenendo solamente la parete della nostra tazzina. Se io clicco su quella faccia lì e uso la mia freccina, mi dà già l'anteprima di quello che succede, vedete? Posso andare a svuotare tutta la mia faccia, fino in fondo, e mantiene solo la parete, parete della quale io posso decidere uno spessore. Quindi mi svuota tutto, tranne 10 mm di parete. Benissimo, quindi la nostra tazzina praticamente ha già una forma di una tazza. Quello che ci interessa a questo punto è andare a creare un manico, per andare a sollevare la nostra tazzina con le dita. Come possiamo fare? Possiamo andare a disegnare uno schizzo, sempre, sul piano frontale, che, attenzione, come nell'esempio precedente, passa per la metà. Perché? Perché abbiamo utilizzato uno schizzo a partire da un piano d'origine, e quindi il nostro piano, in questo caso, è nella metà nel nostro modello 3D, perché abbiamo fatto le cose con quella determinata cura, che vi consiglio di tenere sempre in considerazione. Lo ripeterò sempre perché è fondamentale. Quindi, adesso, se stiamo andando a disegnare nella metà, ci conviene andare a disegnare quella che potrebbe essere una forma già di una piccola maniglia, qui, per la nostra tazza. Come possiamo fare? Utilizziamo un comando linea, ce ne freghiamo di andare all'interno della nostra tazza, e andiamo a disegnare quelle che sono, per esempio, le due parti, che possono essere quelle che escono dritte, diciamo, dalla nostra tazza. Poi possono essere più corte, più lunghe, in base a come vogliamo farla. La cosa che vi consiglio è andare a selezionare questi due punti, tenendo premuto Shift, e andare a renderli verticali. In questa maniera saranno verticali sulla stessa linea, quindi muovendone uno si muovono tutte e due. Questo mi dà la possibilità di averli dritti, diciamo. Anche queste sono cose che spiego in altri video, dove spiego i constraints. vi consiglio di andare all'interno del canale YouTube e guardare il resto dei video base, oppure scaricare il mio manuale, dove c'è tutto l'elenco dei video e vi dà un percorso da seguire, che è molto importante. Quindi, qui abbiamo creato a questo punto i nostri schizzi, che possiamo a questo punto andare a gestire come più ci pare, ad esempio andando allungarli, stringerli. Andiamo a prendere il comando arco, punto 1, punto 2, abbiamo detto, e punto 3. Poi me la vado a regolare questo schizzo, come più mi piace, se me lo voglio tirare all'interno, all'esterno, insomma, per avere la forma che mi serve. Quello che in realtà ci interessa adesso è come andare a creare il nostro modello 3D del piccolo manico. E in questo caso vi faccio vedere un comando che si chiama pipe all'interno di create. Il comando pipe in genere si utilizza per creare delle tubazioni, dei fili, dei cavi, ma può essere utilizzato anche in situazioni in cui il modello 3D deve seguire un percorso che abbiamo già disegnato con uno schizzo e deve avere una sezione circolare o quadrato o al massimo triangolare. Quindi, quando selezioniamo il comando pipe, ci chiede qual è il percorso che deve seguire il nostro nuovo modello 3D. Il percorso è il nostro schizzo che abbiamo disegnato. In questo caso possiamo andare a gestire il diametro del nostro pipe utilizzando questa freccina e volendo anche andarlo a fare finire prima lungo il percorso con questa freccina. In questo caso vi consiglio di tenerlo più largo possibile, più lungo possibile, perché poi andremo a rifinire dopo il nostro manico in funzione della forma della nostra tazzina. Quindi in questo caso l'operazione che vogliamo creare può essere un join come può essere un nuovo corpo, ma in questo caso possiamo andare per esempio a utilizzare un join perché ci andrà a unire il nostro manico con la tazzina e ora, chiaramente, ci sono delle parti all'interno che vogliamo andare a cancellare. Come fare ad andare a cancellarle? Le selezioniamo, semplicemente proviamo cancio della tastiera. Quello che succede, adesso lo proviamo a ripetizione, è che andrà a cancellare tutte le forme all'interno utilizzando praticamente la superficie interna della tazzina come strumento di limite. Quindi tutto quello che sarà all'interno del limite interno viene cancellato e all'esterno invece rimane quella che è la forma del nostro manico già collegato con la nostra tazzina. Quindi, qui a questo punto abbiamo finito di disegnare la nostra tazzina. Cosa interessante è che se a questo punto noi andiamo a modificare lo schizzo del manico, automaticamente la funzione andrà a ricrearsi sfruttando quello che è la nuova geometria. Quindi se io l'allargo, come vedi, la funzione 3D va a seguire il nuovo posizionamento, se io la stringo vale lo stesso discorso. Quindi siamo a posto, praticamente. Possiamo modificarla quante volte vogliamo per creare la forma che più ci piace. L'ultima cosa che voglio fare vedere sulla tazzina riguarda l'aspetto. infatti, come vedi, nel progetto, diciamo, quello che ho usato per farti vedere cosa saremmo andati a fare, c'è una zona colorata diversamente. Come si fa ad andare a fare questa cosa qui? Bisogna andare a suddividere le facce in varie sezioni. Quindi andremo poi a colorarne un pezzettino di un colore e l'altra di un altro. Ti faccio vedere velocemente come si fa perché è molto semplice. Ovviamente dovremo andare a creare uno schizzo anche a questo punto. e se vogliamo creare quella forma un po' strisciante che ho disegnato dall'altra parte utilizziamo un comando all'interno degli schizzi che si chiama spline fit point spline. Fit point spline mi permette tramite vari click di andare a creare queste forme un po' così curvinine. Quindi faccio varie click col tasto sinistro e quando ho finito premo sulla V di conferma e sono andato a creare la mia spline che è questo schizzo qui tutto curvinineo. A questo punto questo schizzo lo posso utilizzare faccio finish sketch come strumento di suddivisione delle mie facce. Come faccio però? Utilizzo il comando modify e vado a utilizzare il comando split face quindi dividi faccia. Quando dividi faccia mi chiede qual è la faccia che vuoi dividere? Questa qui. Qual è lo strumento di taglio che vuoi andare a utilizzare? Il mio schizzo. E a questo punto lui andrà a dividere in due porzioni la mia faccia utilizzando quello schizzo lì. Quindi a questo punto come vedi ho una faccia selezionabile e un'altra. Quindi viene da sé a questo punto che con il comando di aspetto che abbiamo utilizzato anche nel primo esempio posso andare a dare degli aspetti alle varie facce. attenzione però che per andare a darlo alle varie facce devo utilizzare un applica non ai corpi ma alle facce. Diciamo potrei fare intanto un primo aspetto a tutta la tazzina facendo la bianca e poi cliccando facce andare a fare gialla solamente la zona sopra che è quella che mi interessa. Benissimo passiamo al terzo ed ultimo esempio di questo bel video spero che ti sia stato utile la spazzola può sembrare molto difficile da fare in realtà ti spiegherò come farla con pochissimi comandi vedi che sono veramente pochi perché abbiamo giusto 3-4 comandi la forma fondamentale si va a creare con un comando di rivoluzione come abbiamo fatto nell'esempio prima della tazza ma le spazzoline si creano con un'estrusione o con un pipe che abbiamo utilizzato anch'esso nell'esempio prima poi ti spiegherò come andare a copiare in maniera seriale quindi con una duplicazione numerica tutte le spazzole per andare a creare effettivamente l'effetto giusto della spazzola per capelli bene allora come prima cosa andiamo a creare il corpo della nostra spazzola e andiamo a fare un nuovo progetto anch'essa conviene andare a crearla essendo un modello circolare con un comando di rivoluzione quindi andiamo un pochettino più veloci di prima facciamo un comando schizzo a questo punto sul piano frontale creo il mio asse di simmetria e va benissimo poi comincio a creare la mia forma parto dall'alto abbiamo detto che c'è una parte pari poi c'è una parte lunga dove ci saranno tutte le setole per pettinare poi volendo qui c'è un arco quindi lo saltiamo per il momento andiamo a fare la base che sarà anch'essa leggermente piana perché non vogliamo creare un vertice e poi possiamo dare o utilizzare gli archi quindi arco a tre punti qui abbiamo detto che c'era una zona leggermente arcuata verso l'interno poi c'è la zona finale diciamo dove si prende il manico proprio quindi diciamo stiamo facendo in questo caso questa qui vedete abbiamo fatto la zona pari poi la zona con le setole poi la zona con l'arco e la zona con la presa e che anch'essa è un arco quindi siamo arrivati qui ora se noi ce ne siamo abbastanza fregati delle dimensioni possiamo mettere a posto un po' le proporzioni semplicemente trascinando col tasto sinistro quello che sono gli schizzi che abbiamo fatto ma direi che va già abbastanza bene finish sketch andiamo a utilizzare il comando create revolve andiamo a selezionare un profilo vado un po' più veloce perché ve l'ho già spiegato poi se volete ripassare queste cose all'interno del mio canale youtube ci sono tantissimi video dedicati ai comandi base premo ok e questa è la forma che siamo andati a creare ok poteva venire un po' meglio quindi riapriamo il nostro schizzo basta anche semplicemente riattivare l'occhietto e magari o nascondere i corpi se non riusciamo a vedere bene oppure tenerli per vedere in anteprima quelle che sono le modifiche ad esempio io andrei a tirare un pochettino di più qui sotto per andare a allargare un pochettino di più questo allargare un po' di più questo e anche questo magari per andare a diciamo inspessirla un po' inciccionirla un po' uno diciamo va a farla come più gli piace ovviamente ma mi sembrava un po' sottile bene a questo punto dobbiamo andare a creare la nostra prima spatola che poi ti insegnerò come duplicare in infinite copie in maniera molto semplice per andare a disegnare la nostra spatolina la nostra prima se io la chiamo spatola ma quella che serve per appunto pettinare i capelli andiamo a creare un comando sketch dove sul piano frontale come abbiamo fatto le altre volte che in mezzo al nostro modello 3D che attualmente abbiamo creato andiamo semplicemente a disegnare una linea anche in questo caso la facciamo partire dall'interno perché vogliamo che la nostra spatola si unisca al nostro pettine senza distanze che magari non riusciamo neanche a vedere quindi la facciamo entrare all'interno siamo sicuri al 100% che quando creeremo il nostro modello si potrà unire perfettamente con il nostro corpo della spazzola anche in questo caso possiamo andare per comodità andare a utilizzare un comando pipe facciamo crea crea pipe andiamo a selezionare il percorso che è semplicemente la nostra linea e in questo caso andiamo a dargli un diametro che può essere più largo più stretto attenzione però non andiamo a unire già il nostro modello 3D oddio andrebbe bene lo stesso ma vorrei farvi vedere questo procedimento staccando la nostra spatola quindi andiamo a creare un nuovo corpo non andiamo a unirla direttamente sul pettine in maniera che sia un oggetto a parte ok che possiamo andare poi a copiare duplicare spostare in tutte le maniere possibili anche se l'avessimo unito ci sono dei metodi per fare la copia che vi sto per mostrare ugualmente però in questo caso mi sembra più semplice spiegarvelo in questo modo quindi abbiamo creato la nostra spatola la prima a questo punto andiamo a creare un comando di crea pattern i pattern sono delle duplicazioni seriali e un circular pattern quindi una duplicazione circolare clicchiamo qui sopra ci chiede qual è il corpo che vuoi andare a copiare in maniera seriale la mia spatola attorno a cosa essendo una duplicazione circolare attorno a un asse che può essere un asse di simmetria o anche semplicemente una superficie circolare in questo caso possiamo selezionare la sede delle nostre spatole sulla nostra spazzola qui ci viene fuori uno specchietto che ci chiede quante volte vogliamo farlo in genere il numero che mi dà è molto più piccolo qui c'era già 30 che è il numero che ho usato nell'esempio della spazzola che ho già disegnato e fusion tendenzialmente salva i valori numerici che metti per le funzioni perché se la vuoi rifare appunto parti già dal presupposto giusto quindi 30 potrebbe andare bene se premo ok vedete che sono andato a duplicare la mia spatolina singola per 30 volte tutto intorno come faccio però a questo punto a duplicarla per tutta la lunghezza della mia sede della spazzola utilizzo un altro tipo di pattern che è un pattern rettangolare rettilineo in questo caso che mi va a chiedere cos'è che vuoi andare a duplicare facce corpi funzioni componenti noi abbiamo fatto dei corpi selezioniamo i corpi tengo premuto il tasto sinistro del mouse creo una finestra di selezione da sinistra verso destra seleziono solamente quello che c'è all'interno della mia finestra di selezione quindi in questo caso non il corpo della spazzola anche queste cose le spiego in dei video a parte che ti consiglio di andare a vedere nel mio canale youtube o nel mio manuale scaricalo gratuitamente lo so che mi ripeto ma insomma mi serve saperlo la direzione invece è una direzione verticale ok quindi in questo caso devo andare a selezionare un qualcosa che sia verticale per esempio l'asse che passa dalla mia origine e va verso l'alto quindi l'asse z se la seleziono mi trovo il riferimento quindi capisce qual è la direzione dove voglio andare e vengono fuori delle freccine che posso andare a trascinare se io trascino una freccina verso lo z posso andare a posizionare l'ultima copia della mia duplicazione e nel mezzo andare a aumentare quelle che sono il numero delle mie file in questo caso quindi se io ne vado a mettere per esempio probabilmente 20 sono più che sufficienti anche qualcosa in meno giusto per non esagerare sto andando a duplicare tutti i miei oggetti anche in questa direzione il risultato finale è la mia spazzola finita vedete sembrava abbastanza complesso da fare in verità probabilmente il più semplice dei tre che siamo andati a creare ora quello che manca è andare anche in questo caso a dare degli aspetti ma ormai siete super esperti in questo perché l'abbiamo già fatto due volte vado a prendere il comando apparence vado a scegliere quello che può essere un colore del mio pettine e andando a selezionare tutte le mie spatole posso andare per esempio a farle grigie nere insomma come più mi interessa questo lo decidete voi l'importante è andare a selezionare tutto quello che vi serve e cambiare il colore bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video io spero veramente che sia stato utile per darvi qualche suggerimento su come cominciare a modellare in 3d confusion abbiamo visto dei comandi base ma abbiamo visto anche delle strategie professionali da un certo punto di vista che non tutti sanno utilizzare che vi aiuteranno a creare dei modelli 3d che sembrano complessi ma con le funzioni giuste avete visto bastano veramente pochi secondi per andare a creare qualcosa che sembra a una prima occhiata molto complesso io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine sicuramente questo video vi è interessato mettete magari un like per farmi capire che questo video è stato utile commentate fatemelo sapere proprio dicendomi cosa ne pensate e magari condividetelo nei vostri profili social per farlo arrivare ad altre persone io vi saluto intanto ci vediamo poi nei prossimi video in cui parliamo di ulteriori cose all'interno di Fusion della stampa 3d e del business della stampa 3d qualora voi siate interessati a queste tematiche ci vediamo ciao ragazzi